Ciao amici, su richiesta di un utente vi mostro qual è la velocità di lo speed test che riesco a ottenere con Iliad utilizzando le due reti. Quindi farò un primo test utilizzando la rete a 2.4 GHz, la rete Wi-Fi a 2.4 GHz che è quella che vedete su cui sono collegato in questo momento, e un secondo test, sempre un secondo speed test con la rete a 5G. Le due reti sono differenziate, come vedete, dal soffisso 5G, come vi ho fatto vedere anche nell'altro video. Quindi cominciamo. Rete 2.4 GHz, siamo connessi, quindi vado sullo speed test e lo lancio. Sono a un metro scarso dal router, quindi il Wi-Fi non dovrebbe essere un problema. Non dovrebbe avere perdite dovute a distanza dal router. Risultati direi abbastanza deludenti, passiamo all'altra rete. Quindi mi metto sul Wi-Fi 5G e faccio ripartire, vediamo se è tutto a posto, sì, e faccio quindi ripartire lo speed test. C'è una differenza mostruosa, però voglio fare poi un altro test. Ecco, questi sono i valori che mi ricordo grossomodo. Non ho capito perché nell'altro test la velocità ha fatto così schifo, quindi aspettate un attimo che voglio vedere i risultati. Questo qui è stato fatto con... ecco, con una rete... facciamo un altro test, quindi ripasso sulla 2.4 GHz, però sceglierò la rete FastWeb Milan, questo qua. Un altro server perché mi sa che ho trovato un server particolarmente in difficoltà. Dunque, connettiti, perfetto. Torniamo sulla rete. No, cambia. E mettiamo lo stesso server, quindi via. No, sta facendo particolarmente schifo in effetti quella a 2.4 GHz. Aveva ragione l'utente che mi ha fatto la segnalazione. Per scrupolo passo sul cellulare perché avevo fatto lo stesso test sul cellulare e non avevo notato questa differenza. Quindi, datemi un attimo e vi farò... passo sull'altro device a fare il medesimo test. Ok, quindi in pratica risultati allineati a prima. Va bene. Allora, amici, sono passato sul cellulare come vedete. Sono sulla rete 2.4 GHz, quindi proviamo a fare uno speed test. Da qui. Utilizzerò, vediamo che mi dà qua, come server. Mettiamoci sempre fast up così siamo sicuri di usare lo stesso server. E via. No. Il risultato non cambia. Mi chiedo allora che cosa ho testato ieri sera. Non vorrei aver fatto allora una cavolata, però verosimile a sto punto. Il download a 2.4 GHz, premesso che sono sempre a meno di un metro dal router, il risultato fa abbastanza pena. Adesso per completare il test passo anche qui alla rete a 5 GHz. E rifaccio partire lo stesso test. Su fast up va bene. Niente. Aveva ragione l'utente che mi ha fatto la segnalazione. Rettifico subito pure nei commenti all'altro video così non do informazioni false. Se avete dubbi, suggerimenti o altro, al solito lasciateli nei commenti e vi risponderò appena possibile. Ciao a tutti.